Arteven, in collaborazione con Regione del Veneto e Mibact, presenta Radio Veneto Drammi trasmissioni d'autore. Il centro teatrale da Ponte legge Le meraviglie del 2000 di Emilio Salgari, pubblicato nel 1907. 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 Quella mattina era entrato nel piccolo porto con un solo passeggero. Accadeva spesso durante l'autunno, terminata la stagione balneare, che rarissime persone approdassero a quell'isola, abitata solo da qualche migliaio di famiglie di pescatori che non si occupavano d'altro che da fondare le loro reti nei flutti dell'Atlantico. Signor Brandock, siamo giunti! Il passeggero, che durante la traversata era rimasto sempre seduto a prora, senza scambiare una parola con nessuno, si era alzato, con una certa aria annoiata, che non era sfuggita né al pilota né ai quattro marinai. I divertimenti di Nuova York non lo hanno guarito dal suo spleen. Eppure che cosa manca a lui? Bello, giovane e ricco, se fossi io al suo posto. Il passeggero era di fatti un bel giovane tra i 25 e i 28 anni, di statura alta come sono ordinariamente tutti gli americani, questi fratelli gemelli degli inglesi, con lineamenti regolarissimi, gli occhi azzurri e i capelli biondi. Aveva invece negli sguardi un socché di triste, di vago, che colpiva coloro che lo avvicinavano. Nelle sue mosse qualcosa di pesante e di stanco, che contrastava vivamente col suo aspetto robusto e florido. Udita la voce del pilota, il signor Brandock si era alzato quasi a fatica, come se si risvegliasse in quel momento da un lungo sonno. Si mise a camminare lungo la spiaggia, con le mani affondate nelle tasche dei pantaloni e gli occhi semichiusi. Come se fosse in preda una specie di sonnambulismo. Giunto all'estremità della borgata, si fermò. E aprì gli occhi, fissandoli su un gruppo di monelli scalzi, che si rincorrevano lungo le dune ridendo e schiamazzando. Ecco degli esseri felici. Essi almeno non sanno che cosa sia lo splin. Stette qualche istante immobile. Poi scosse il capo, mandò un lungo sospiro e riprese la passeggiata per fermarsi alcuni minuti dopo. Dinanzi una bella casetta, due piani, tutta bianca con le persiane verniciate. E un giardinetto chiuso da una cancellata in legno. Che cosa farà il dottore? Starà attormentando qualche cavia o qualche povero coniglio. Il segreto di poter rivivere dopo cent'anni. Bell'idea. Io credo che quel buon Toby perde inutilmente il suo tempo. Eppure egli è molto più felice di me. Il giovane era già al secondo piano. Aprì una porta ed entrò in una stanza piuttosto vasta e ben illuminata da due ampie finestre. Tutta circondata da scaffali di noce pieni di un numero infinito di storte e di bottiglie avariopinte. Nel mezzo, furvo su una tavola, vi era un uomo sui cinquantacinque anni, di forme quasi herculee, con una lunga barba un po' brizzolata e tutto intento ad osservare un coniglio che pareva a prima vista o morto o addormentato. Ah! Sei tornato, amico James! Ti sei stancato presto di Nuova York e mi pare che tu non abbia un'aria molto soddisfatta. Sono più annoiato di prima ed è un miracolo che sia qui. Avevo già deciso di fare un bel salto dal faro della libertà e di sfracellarmi sul molo. Una brutta sciocchezza, mio caro James. A 26 anni, con un milione di dollari. E cento milioni di noia che mi fa sbadigliare da mattina a sera. La vita diventa ogni giorno più insopportabile e finirò per sopprimermi. Un viaggio all'altro mondo non mi dispiacerebbe. Forse là mi annoierò meno. Viaggia in questo mondo, amico. E dove vuoi che vada, Toby? Ho visitato l'Australia, l'Asia, l'Africa, l'Europa e mezza America. Che cosa vuoi che vada a vedere? James, ti piacerebbe vedere come camminerà il mondo fra cent'anni? Sì, io voglio vedere che cosa sarà l'America fra venti lustri. Chissà quale meraviglia avranno inventato allora gli uomini. Macchine straordinarie, navi colossali, palloni dirigibili e mille altre cose strabilianti. Ormai il genio umano non ha più freno e gli inventori nascono come i funghi. Hai trovato finalmente il modo di prolungare la vita? Di fermarla, invece. Ne vuoi una prova? Vedi questo coniglio? È morto? No, dorme da quattordici anni. Tra poco te lo farò resuscitare con una semplice puntura e un bagno tiepido. Toby, dopo essere stato alcuni momenti silenzioso, raccolto in se stesso, si era alzato per prendere da uno degli scaffali un vaso di vetro contenente una piccola pianta disseccata che pareva unica nel suo genere. Ne hai mai veduta una simile, amico James? Vorrei sapere che cosa c'entra questa pianticella coi conigli che dormono da tanti anni. Immagino che non avrai intenzione di aumentare le mie noie. Non hai mai udito parlare del fiore della risurrezione? Ascoltami dunque. La storia è interessante e non ti annoierà. 50 anni or sono, un mio collega, il dottor Deck, viaggiava nell'Alto Egitto con lo scopo di trovare un'antica miniera di metalli in cui lavoravano un tempo dei sudditi dei faraoni. Un giorno incontrò un arabo infermo e il dottore lo curò amorosamente salvandogli la vita. Il figlio del deserto era povero, eppure voleva ricompensare il suo salvatore dandogli un tesoro che da solo valeva tutte le pietre preziose del mondo. Una piccola pianta dissecata che dall'arabo era stata scoperta in un'antichissima tomba nel seno di una sacerdotessa egiziana che per bellezza non aveva avuto uguali. Il dottor Deck, ascoltando i pomposi elogi fatti a quel piccolo fiore, sepolto chissà quanti secoli prima dall'era cristiana e che portava dei bottoncini arsi dal sole e digialliti, non aveva potuto trattenersi da sorridere. Ed io avrei fatto altrettanto. Ed avresti avuto torto, poiché l'arabo prese la pianta, la bagnò con alcune gocce d'acqua e sotto gli sguardi del dottore si compì un prodigioso meraviglioso. La pianta, appena sentì inumidirsi, cominciò a fremere, poi ad agitarsi, i suoi tessuti si raddrizzarono, i suoi bottoni si gonfiarono, poi si schiusero. Il fiore a poco a poco sbocciava, dopo venti secoli e più di sonno, svolgendo i suoi leggeri petali, i quali si distendevano come raggi superbi intorno ad un punto centrale, pieni di eleganza e di freschezza. Strano fenomeno. Quel fiore assomigliava ad una margherita raccolta in qualche giardino incantato. Quella resurrezione misteriosa durò parecchi minuti. Poi, il fiore a poco a poco rovesciò la sua corolla dalle tinte iridescenti, scoprendo in mezzo ai petali alcuni granelli antichissimi. Ahimè, la preziosa semente che il fiore della resurrezione custodiva con tanta gelosa cura, da tanti secoli, era irrimediabilmente sterile. A quale suolo? Affidare quei granelli? Quale sole avrebbe potuto tenerli in vita? Sorpreso e ammirato, il dottore portò secolo a meravigliosa pianta e rinnovò in Europa centinaia di volte l'esperimento del vecchio arabo. E sempre, il piccolo fiore del deserto, la pianta misteriosa degli antichi faraoni, risuscitò nella sua immortale bellezza, mercè alcune gocce d'acqua. Morendo, il dottor Deck regalò il fiore della resurrezione al discepolo ed amico suo James, il quale ripetè anche egli con uguale successo la prodigiosa esperienza. Infine, il fiore della pianta egiziana venne offerto ad Alessandro Humboldt, ed il grande naturalista lo resuscitò più volte davanti ai suoi dotti colleghi. Tra le sue mani, la pianta misteriosa non fece che rinascere e morire senza che egli potesse penetrarne i segreti. Ad ogni operazione, ripeteva con la tristezza del genio impotente, nulla c'è in natura che somiglia a questa pianta. E nessuno ha mai potuto penetrare il mistero di quella pianta che tolta dal sepolcro dopo migliaia di anni risuscitava grazie a una goccia d'acqua e riapriva la sua corolla eternamente bella come per dire al mondo ecco com'ero al tempo dei faraoni? Sì, uno solo. Io. Durante un viaggio che feci 25 anni orsono in Egitto potei avere uno di quei fiori e studiare e anche spiegare i misteri della sua risurrezione. E da quel fiore mi è sorta l'idea di fermare la vita umana per farla risvegliare dopo un numero più o meno lungo di anni. Perché se poteva rivivere un'umere fiorelline, fiorellino non avrebbe potuto fare altrettanto un organismo così completo come quello dell'uomo? Ecco, la domanda che mi rivolsi e alla cui soluzione impiegai 25 anni di studi ininterrotti. E ci sei riuscito? Pienamente. Si era alzato avvicinandosi al tavolino e aveva preso fra le mani il coniglio che pareva morto avendo le gambe e la testa irrigidite. Una semplice puntura del mio filtro misterioso è bastata per fermare le pulsazioni del cuore di questo animale e per conservarlo per un così lungo tempo. prese da uno scaffale una piccola fiala di vetro che conteneva un liquido rosso. Vi immerse una siringa e poi punse replicatamente il coniglio la prima volta in direzione del cuore e la seconda volta alla gola. In un angolo vi era un bacino di metallo sotto cui ardeva una lampadina d'alcol. Il dottore vi immerse un dito per assicurarsi del calore dell'acqua poi levò la vaschetta deponendola sulla tavola. Puoi fare un bagno al morto? Cioè all'addormentato. È necessario allentare a questo dormiglione i nervi che da tanti anni non agiscono più. Se tu riesci a far rivivere questo animale io ti proclamo il più grande scienziato del mondo. Non esigo tanto. Pare che tu cominci a credere al buon risultato della strana operazione vero James? Non ancora. Eppure sento che la testa del coniglio comincia a diventare calda e che la carne freme ti guarda agita le zampe e respira anche miracolo miracolo Zitto James non gridare tanto forte È meravigliosa questa risurrezione Eh non dico di no Una scoperta che metterà sottosopra il mondo No niente affatto perché io mi guarderò bene da divulgarla non siamo che in tre sole persone a conoscerla io tu e il notaio del borgo quell'eccellente signor Max Perché la conosce anche il notaio? Perché voglio farmi rinchiudere nel rifugio che mi sono fatto preparare sulla cima dello scoglio di Rez per risvegliarmi fra cento anni Si incaricheranno i discendenti del notaio e il futuro sindaco di Nantucket o i suoi successori a farmi ritornare in vita Lascio ventimila dollari appunto per farmi resuscitare unitamente alla fiala contenente il misterioso liquido che mi dovranno iniettare nei punti indicati nel mio testamento Ma ti ucciderai? E allora vuol dire che tu non hai alcuna fiducia nella mia grande scoperta? Sì piena fiducia però tu non sei un coniglio e poi cento anni non sono quattordici Eh io volevo farti la proposta di addommentarti con me Tu hai pensato a me? Ma sì sperando che con un riposo di cento anni il tuo spleen finirebbe per andarsene Ma se l'altro giorno volevo gettarmi dal faro della libertà vedi in quale conto ormai tengo la mia vita Mi vuoi per compagno Toby? Sono pronto Anche se morissi non perderei nulla Sei eccentrico davvero come un vero inglese Grazie a tutti Grazie a tutti. Una mattina degli ultimi giorni di settembre del 2003. Gravi avvenimenti sono avvenuti ieri nella città di Cadice. Gli anarchici della città sottomarina di Bressac, impadronitisi della nave Hollendorf, sono sbarcati nella notte, facendo saltare parecchie case con bombe. La popolazione è fuggita e gli anarchici hanno saccheggiato la città. Si chiamano sotto le armi i volontari di Malaga e di Alicante, che verranno trasportati sul luogo dell'invasione con flotte aeree. Si dice che Bressac sia stata distrutta e che molte famiglie anarchiche siano rimaste annegate. Una meraviglia del 2000! I giornali comunicano direttamente le notizie a casa degli abbonati, ma che abbiano soppresso la carta e le macchine per stamparla. Come state, zio? Mi permettete di chiamarvi così, don Innanzi? Certo, mio caro tardo nipote. Mi trovo abbastanza bene. Anche voi, signor Brandock. Ho solamente un po' di fame. Il pranzo è pronto? Signor Holker, siete vegetariano voi? Perché mi fate questa domanda? Ai nostri tempi si parlava molto di vegetarianismo, specialmente in Germania ed in Inghilterra. Si vede che quella cucina ha fatto dei progressi. Mi stupisce come i moderni americani abbiano rinunciato alle succose bistecche e dai sanguinanti roast beef. Sono piatti diventati un po' rari oggi, mio caro. Per il semplice motivo che i buoi e i montoni sono quasi scomparsi. Ah! Ve ne stupite? Ma molto! Mio caro signore, la popolazione del globo in questi cento anni è enormemente cresciuta e non esistono più praterie per nutrire le grandi mandrie che esistevano ai vostri tempi. Tutti i terreni disponibili sono ora coltivati intensivamente per chiedere al suolo tutto quello che può dare. Se così non si fosse fatto a quest'ora, la popolazione del globo sarebbe alle prese con la fame. D'altronde, non abbiamo più bisogno di carne al giorno d'oggi. I nostri chimici, in una semplice pillola dal peso di qualche grammo, fanno concentrare tutti gli elementi che prima si potevano ricavare da una buona libra di ottimo bue. E l'agricoltura come va senza buoi? I nostri campagnoli non fanno uso che di macchine mosse dall'elettricità. Sicché non vi sono più neanche cavalli? Che cosa potrebbero servire? Ce ne sono ancora alcuni, conservati più per curiosità che per altro. E gli eserciti non ne fanno più uso? Eserciti? Cavalleria? Chi se ne ricorda ora? Non vi sono più eserciti? Oggi noi possediamo degli esplosivi capaci di far saltare una città di qualche milione di abitanti. Una guerra al giorno d'oggi insegnerebbe la fine dell'umanità. La scienza ha vinto ormai su tutto e su tutti. L'unica cosa che la scienza non vincerà è la produzione della terra e dei mari che non basterà più a nutrire tutti. Se si potesse darla scalata a Marte che è invece una popolazione così scarsa e tante terre ancora incolte. E come lo sapete voi? Gli stessi marziani. E come sono dunque gli abitanti di Marte? Somigliano a noi? Le descrizioni che abbiamo ricevuto da loro non sono affatto simili a noi. Tuttavia, in fatto di civiltà e di scienza, sembra che non siano a noi inferiori. Figuratevi, zio, che hanno delle teste quattro volte più grosse delle nostre. Siano i benvenuti. Ecco a voi il più grande astronomo d'America, il signor Hibert. Ecco, io sarei curioso di sapere come siete riuscito a dare a quei lontani abitanti notizie della terra. Dovete aver superato delle difficoltà immense. Eppure, che cosa direste se io vi raccontassi che l'idea di fare dei segnali a noi nacque prima nel cervello dei marziani? Signor Hibert, conduceteci sulla torre. Devo mandare un saluto al mio amico Onyx. Sarebbe il tuo marziano? È un mercante di pesce che si duole sempre di non potermi far assaggiare le gigantesche anguille che i suoi pescatori prendono nel canale d'Egg. E dunque lassù vi sono padroni e lavoratori? Come sul nostro globo. E anche dei re? Dei capi che governano le diverse tribù disperse sui continenti. Tutto il mondo è paese. Pare di sì. Tutto il mondo è paese. Signor Brandock, devo avvertirvi che le abitazioni moderne hanno 20 o 25 piani e che contengono dalle 500 alle 1000 famiglie. La popolazione è uno dei nostri antichi soborghi. Dunque non ci sono più case piccole? Terreno è troppo prezioso oggi di e quel lusso è stato bandito. Non si può sottrarre spazio all'agricoltura. Ma comincia a fare buio. Sarebbe tempo di illuminare il mio salotto. I nostri tempi che cosa si accendeva alla sera? Gas, petrolio, luce elettrica. Povera gente. E come doveva costar cara allora l'illuminazione? Ora invece abbiamo quasi gratis la luce e il calore. Dal soffitto pendeva un'asta di ferro che finiva in una palla, composta ad un metallo azzurro. Il signor Holker l'aprì facendola scorrere sopra l'asta. E tosto, una luce brillante simile a quella che mandavano un tempo le lampade elettriche, si sprigionò inondando il salotto. Ciò che la produceva era una pallottolina appena visibile che si trovava in fissa sotto alla sfera. E la luce che tramandava espandeva un dolce calore assai superiore a quello del gas. Che cos'è? Un semplice pezzetto di radium. Si conosceva ai vostri tempi? L'avevano già scoperto, ma non si usava ancora a causa dell'enorme costo. E poi non si era potuto trovare ancora il modo di applicarlo, come avete fatto ora voi. Tutti però gli predicavano un grande avvenire. Quello che non hanno potuto fare i chimici del 1900 l'hanno fatto quelli del 2000. Quel pezzetto lì non vale che un dollaro. Brucia sempre, senza mai consumarsi. È il fuoco eterno. Meraviglioso metallo. Sì, meraviglioso. Perché oltre a darci la luce, ci dà anche il calore. Ha detronizzato il carbon fossile, la luce elettrica, il gas, il petrolio, le stufe, i cammini. La forza necessaria per far agire le macchine degli stabilimenti, delle officine, chi ve la dà adesso? L'elettricità trasportata ormai a distanze enormi. Le nostre cascate del Niagara, per esempio, fanno lavorare delle macchine che si trovano a mille miglia di distanza. Se noi volessimo, potremmo dare quelle forze anche all'Europa, mandandole attraverso l'Atlantico. Ma anche laggiù hanno costruito delle cascate sui loro fiumi e non hanno più bisogno di noi. Amico James, ti penti di aver dormito cent'anni per poter vedere le meraviglie del 2000? Credevi di vedere il mondo così progredito? Non mi aspettavo tanto. E il tuo spleen? Non lo provo più. Tuttavia, non senti nulla tu? Sì, un'agitazione strana, un'irritazione inesplicabile del sistema nervoso. Mi sembra che i muscoli balino sotto la mia pelle. Anche a me. Sapete da che cosa deriva? Dall'immensa tensione elettrica che regna ormai in tutte le città del mondo e a cui voi non siete ancora abituati. Cent'anni fa l'elettricità non aveva ancora raggiunto un grande sviluppo, mentre ora l'atmosfera e il suolo ne sono saturi. Ma vi abituerete, ne sono certo. Per oggi basta, andate a riposare. Domani mattina faremo una corsa attraverso Nuova York sul mio Condor. Un'automobile? Sì, ma di nuovo genere. Cominceremo così il vostro viaggio attraverso il mondo. Brando che Tobi si erano appena seduti, che il Condor si innalzò subito obliquamente fino al di sopra delle immense case, descrivendo una serie di giri d'una precisione ammirabile. Quella macchina, inventata dagli scienziati del 2000, era davvero stupefacente e quello che è più di una semplicità straordinaria. Non si componeva che di una piattaforma di metallo che pareva più leggero dell'alluminio, con quattro ali e due eliche, collocate le une lateralmente alle altre, tutte di tela, con stecche d'acciaio e una piccola macchina che le faceva agire. Il gas, come si vede, non vi entrava per nulla. La meccanica aveva trionfato sui palloni dirigibili del secolo precedente. Tobi e il suo compagno guardavano con stupore quel congegno straordinario che si alzava e si abbassava e girava e rigirava come fosse un vero uccello. Altri consimili ne volavano in gran numero sopra i tetti dei palazzi, gareggiando in velocità, per la maggior parte montati da signore che ridevano allegramente e da fanciugli schiamazzanti. Ve ne erano di tutte le dimensioni, di grandissimi che portavano perfino 20 persone e di piccolissimi, appena sufficienti per due. Altri, formati da sole due ali somiglianti a quelle dei pipistrelli, cregevano una poltroncina montata da una sola persona e cheppure manovravano con non minore precisione e rapidità degli altri. In alto, in basso, si incrociavano saluti e chiamate. Poi la flottiglia aerea si disperdeva in tutte le direzioni, calando sulle vie, sulle piazze, sulle immense terrazze delle case o fermandosi dinanzi alle finestre o ai poggioli per imbarcare nuove persone. Vrendo che Tobi erano diventati muti, come se lo stupore avesse paralizzato loro la lingua. Il condor si abbassò bruscamente su una vasta piazza brulicante di gente che pareva impazzita. Che cosa accade laggiù? Sembra che quegli uomini abbiano il fuoco addosso. Vanno e vengono quasi correndo. È la piazza della borsa. Ma anche la gente che si affolla nelle vie vicine pare che cammini sui tizioni. Eppure non saranno mica borsisti quelli là. Camminavano diversamente sent'anni fa. Io ho sempre veduto da quando sono venuto al mondo correre così frettolosamente. Erano molto più calmi gli uomini. Mentre ora vedo che perfino le signore marciano a passo di corsa, come se avessero paura di perdere il treno. Ah, ora comprendo. È la grande tensione elettrica che agisce sui loro nervi. Il mondo quindi è impazzito, o quasi. Il condor salzò di un centinaio di metri e si slanciò verso l'est con una velocità di 50 chilometri all'ora. Vie immense apparivano sotto agli aeronauti, se così si potevano chiamare, fiancheggiate da palazzi mostruosi di 20, 25, perfino 30 piani che dovevano contenere migliaia di famiglie ciascuno, la popolazione di un villaggio. Mille fragori salivano fino agli orecchi dei due risuscitati, prodotti chissà da quali macchine gigantesche, filschi, colpi formidabili, detonazioni, scoppi e si vedevano lungo le pareti e sulla cima di colonne di ferro roteare con velocità straordinaria delle macchine volanti di dimensioni mai viste. Che cosa fanno laggiù? Sono officine meccaniche. Chissà quante migliaia di operai lavoreranno là dentro. Vi ingannate, mio caro signore. Gli operai oggi di sono quasi scomparsi, non vi sono che dei meccanici per dirigere le macchine. L'elettricità ha ucciso il lavoratore. Cos'è avvenuto di quelle masse enormi di lavoratori che esistevano un tempo? Sono diventati pescatori e agricoltori. Il mare e le campagne a poco a poco hanno assorbito gli operai. Sicché non vi saranno più scioperi. Ai nostri tempi si imponevano e come, specialmente dopo l'organizzazione fatta dal grande partito socialista. Che cosa è avvenuto anzi del socialismo? Si prediceva un grande avvenire a quel partito. È scomparso, dopo una serie di esperimenti che hanno scontentato tutti e contentato nessuno. Era una bella utopia che in pratica non poteva dare alcun risultato, risolvendosi infine in una specie di schiavitù. Così siamo tornati all'antico e oggi divi sono poveri e ricchi, padroni e dipendenti, come era migliaia d'anni prima e come è sempre stato da che il mondo cominciò a popolarsi. Qualche colonia tedesca e russa sussiste, non di meno ancora, composta da vecchi socialisti che coltivano in comune alcune plaghe della Patagonia e della terra del fuoco. Ma nessuno si occupa di loro. Ne hanno alcuna importanza. Anzi, vanno scomparendo poco a poco. Brooklyn spariva rapidamente fra le nebbie dell'orizzonte e il condor volava sopra bellissime campagne coltivate con grande cura, in mezzo alle quali si vedevano correre delle strane macchine agricole di proporzioni gigantesche. Un'enorme macchina aerea, fornita di sei paia d'ali immense e di eliche smisurate, con una piattaforma di 20 metri di lunghezza carica di persone, s'avanzava con velocità vertiginosa, tenendosi a 100 metri dal suolo. Magnifico! Ma chi sono? Contadini, che portano i loro prodotti a Scranton. Come sono bruni? Si direbbero indiani. A proposito, che cosa è avvenuto dei Pelli Rosse che erano ancora assai numerosi cent'anni fa? Sono stati completamente assorbiti dalla nostra razza e si sono del tutto fusi con noi. Non esistono ormai che poche centinaia di famiglie confinate nell'Alto Yukone, presso il Circolo Polare. Era la sorte che loro aspettava. E dei negri, che erano numerosissimi anche qui? Sono diventate invece spaventosamente numerosi. Hanno buon sangue gli africani, non si lasciano assorbire, così pure gli uomini di razza gialla. C'è ancora la Cina? La Cina sì, ma non l'impero. È stato smembrato dalle grandi potenze europee e in tempo per impedire una spaventevole invasione. La razza cinese in questi cento anni è raddoppiata e se il pronto intervento dei bianchi, spinta dalla fame, non avrebbe tardato a rovesciarsi sull'Europa e sull'India. Hanno tuttavia invaso buona parte del globo, non come conquistatori, ma come emigranti e si trovano oggi di colonie cinesi perfino nel centro dell'Africa e dell'Australia. Dunque, il mondo minaccia di diventare tutto giallo? E le razze latine? La sola Italia è cresciuta, e rapidamente, perché ha i suoi 50 milioni, mentre la Spagna e soprattutto la Francia sono rimaste quasi stazionarie. Se non vi fosse l'Italia, la razza latina a quest'ora sarebbe stata assorbita dagli anglosassoni e dagli slavi. Sai, Toby, che io a forza di cadere di stupore in stupore finirò per diventare pazzo. Ma non ti senti bene? Mi trovavo meglio cent'anni fa col mio spleen. Provo sempre un'eccitazione strana. È la tensione elettrica. Amici miei, il treno sta per giungere. Abbiamo appena il tempo di discendere la scala. Presto, salite. Ma non ci muoviamo? Siamo già in viaggio. Io non provo nessuna scossa, né odo alcun rumore di macchine. Eppure il treno corre con una velocità fantastica. Quanto percorrevano allora i vostri treni? Oh, 120 chilometri al massimo. E questo procede con la velocità di 300. E quale macchina lo spinge? Nessuna macchina. Viene aspirato e spinto contemporaneamente. Spiegati meglio, nipote mio. Noi siamo troppo vecchi per capire al volo le invenzioni moderne. Noi viaggiamo in un tubo d'acciaio della circonferenza di 5 metri. I cui carrozzoni, che sono ordinariamente in numero di 20, combaciano perfettamente con le pareti di metallo. Questi vagoncini hanno una forma cilindrica la cui circonferenza è esattamente precisa a quella interna del tubo. E possono contenere 24 passeggeri. Fra le due stazioni principali vi sono delle pompe mosse da macchine poderose che iniettano nel tubo correnti d'aria. In quella di partenza le pompe sono prementi. In quella d'arrivo invece sono pompe aspiranti. I cilindri che costituiscono i carrozzoni e che sono pure di acciaio vengono in tal guisa spinti e aspirati. In poche parole, sono treni ad aria compressa. Stupefacente! Ma che cosa non avete inventato voi, uomini del 2000? I cilindri con lo sfregamento non si infiammano. Mi pare che noi dovremo cuocere qui dentro, mentre la temperatura si conserva relativamente fresca. Niente affatto. Primo perché viene adoperato un metallo che è lentissimo a riscaldarsi, il tantalio, che se non erro ai vostri tempi valeva tantissimo e che la chimica d'oggi invece può dare ad un prezzo uguale a quello dell'argento. E poi perché il cilindro di testa e quello di coda sono formati da due immensi serbatoi i quali proiettano incessantemente getti d'acqua impedendo il riscaldamento. Quando giungeremo sulle coste dell'oceano artico? Alle 5 di domani mattina. Troveremo qualche albergo lassù. E anche un buon letto. Fra i ghiacci. Ai nostri tempi quella grande isola dell'oceano artico non era frequentata che da orsi bianchi e da cacciatori di foche e di balene. Oggi è diventata un po' come la Svizzera. Ed esco i mesi, ve ne sono ancora nelle regioni polari? Alcune famiglie soltanto. Le altre tribù sono invece quasi tutte scomparse. E per quale motivo? In seguito alla totale distruzione delle balene e delle foche che costituivano la loro alimentazione. Sono stati uccisi dalla fame? Eh sì, signor Brandock. Eppure mi avete detto che vi è una numerosa colonia polare. È vero, ed è costituita da anarchici, colà confinati perché non turbino la pace del mondo. E come vivono quelli? I pesci abbondano ancora al di là del circolo polare. E poi i governi americani ed europei li provvedono di viveri a patto che non lasciano i ghiacci. Sicché è loro proibito di tornare in Europa ed in America? E anche in Asia. E quindi il mondo è tornato tranquillo dopo la loro espulsione? Abbastanza. E nella colonia polare regna la calma? Costretti a pescare e a cacciare incessantemente non hanno più tempo di occuparsi delle loro pericolose teorie. Così regna la calma e un certo accordo. Quindi mi dici che erano diventati numerosi in questi cento anni? Sì, e anche molto pericolosi. Ora non sono più da temersi essendo relegati con le loro famiglie al polo nord e nelle città sottomarine. Non inquieteranno più l'umanità. Eppure il dispaccio di quel tal giornale di oggi smentisce ciò che voi avete affermato. Quello è stato un puro caso. E poi avete saputo come sono stati trattati dai pompieri spagnoli. Pochi getti d'acqua elettrizzata, correnti altissime, tutto è finito. E ti ami, nel mondo ha diritto di vivere e di lavorare tranquillamente senza essere disturbato. Chi secca gli altri si manda nel regno delle tenebre. E vi assicuro che nessuno piange. Una specie di giustizia turca. Chiamatela come volete. Tutti la provano e la proveranno anche in avvenire. Ma sono molti qui gli anarchici? Un migliaio. E quasi tutti hanno con loro una compagna. E i figli che nascono? Sono mandati in Europa e anche in America a studiare e a educarsi per farne dei cittadini operosi. Andiamo all'albergo del genio polare. È l'unico che ci sia e non ci troveremo male. Uscirono dalla tettoia e si trovarono dinnanzi a parecchie slitte tirate da cani e squimesi, guidate da uomini che parevano orsi marini. Salirono su una slitta e partirono di corsa attraverso le vie del villaggio polare, che erano coperte da uno strato immenso di neve. Quelle strade erano ampie, illuminate da lampade elettriche, essendo già da giorni incominciate alla lunga notte polare, e fiancheggiate da casette di legno ad un solo piano, semisepolte dalla neve. Enormi montagne di ghiaccio si elevavano intorno alla borgata e rifrangevano la luce delle lampade con effetto meraviglioso. Pareva che quelle case si trovassero incastrate fra diamanti giganteschi. Quantunque il freddo fosse così intenso da rendere perfino la respirazione dolorosa, parecchi abitanti passeggiavano per le vie, chiacchierando animatamente, come se si trovassero su un boulevard di Parigi o un ringstrasse di Berlino o di Vienna. Grazie a tutti. Per tre giorni Olker e i suoi due amici si trattennero nella colonia polare facendo delle escursioni nei dintorni, sulla slitta dell'albergo, visitando parecchie case degli anarchici e qualche capanna esquimese. Nonostante il freddo eccessivo che regnava all'aperto e la profonda oscurità addensata sugli sterminati banchi di ghiaccio della regione polare. Dovettero constatare, e ne furono molto lieti, che quegli uomini, un giorno così pericolosi, erano diventati assolutamente pacifici e mansueti come agnellini. Era l'influenza del freddo o l'isolamento che avevano addosso, che aveva operato quel prodigio su cui quei cervelli esaltati lavoravano finora. Probabilmente l'una e l'altra cosa insieme. Certo, non ci trovavano più gusto a parlare di bombe, di incendi e di stragi con un freddo di 45 gradi sotto zero. Preferivano fumare la pipa accanto ad una lampada a radium, godendosi il calore che essa mandava. Come si vede, i governi d'Europa ed America avevano avuto un'eccellente idea a mandarli in quel clima perché si raffreddassero. La mattina del quarto giorno, mentre Holker, Brando e Toby stavano prendendo una bollente tazza di tè, furono finalmente avvertiti che, durante la notte, era giunto il tramvai elettrico dallo Spitzbergen e che si preparava a far ritorno in Europa. Partiamo, amici. L'inverno il polo è poco piacevole e ritengo che ne abbiate abbastanza del nostro soggiorno fra i ghiacci eterni. Amerei di più trovarmi in un clima meno rigido. Io non ho nelle mie vene il sangue ardente degli anarchici. Ci imbarcheremo sul battello volante che fa il servizio fra le isole e l'Inghilterra. Desidero mostrarvi un'altra meraviglia. I grandiosi mulini del Gulfstream. Mulini per macinare granaglie? No. Poi andremo a visitare una delle città sottomarine inglesi dove si trovano relegati i più pericolosi banditi del Regno Unito. Ecco la slitta. Andiamo, amici. Non fu che alle prime ore dell'indomani che furono avvertiti dal loro ospite che il vascello aereo era comparso all'orizzonte. Solseggiarono una tazza di tè e indossati i grossi mantelli di pelle d'orso si precipitarono verso la baia per godersi lo spettacolo dell'arrivo. Il vascello volante era ormai visibile e solcava lo spazio maestosamente tenendosi a 150 metri dai banchi di ghiaccio che si stendevano sull'oceano. Somigliava agli omnibus volanti che già Brando e Toby avevano veduto a Nova York però più in grande avendo la piattaforma più larga dieci ali, quattro eliche mostruose e doppi timoni. Sopra si estendeva una galleria a vetri riservata ai viaggiatori e sormontata da un albero con un'antenna probabilmente qualche apparecchio elettrico per la trasmissione dei telegrammi aerei. Dinanzi alla baia si estendevano degli immensi banchi di ghiaccio solcati da canali più o meno larghi e che mandavano in alto un bagliore intenso quasi accecante dovuto alla rifrazione di tutta quella massa trasparente. In lontananza invece appariva la tinta azzurro cupa del mare che indicava le acque libere dell'oceano atlantico. Brandock, Toby e Holker ben coperti dai loro mantelli di pelo si erano seduti fuori dalla galleria sulle panchine di prora per godersi meglio quello spettacolo. Il vascello volante, nonostante la sua mole si comportava meravigliosamente bene gregiando coi lesti gabbiani e coi grossi albatros che lo seguivano e lo precedevano. Manteneva una linea rigorosamente diritta orientata sulla bussola senza abbassarsi nemmeno di un metro. Non era un pallone era un vero vascello che obbediva alle mosse dei due itmoni e che funzionavano come le code dei volatili. Una scoperta stupefacente! Chi avrebbe detto che l'uomo sarebbe riuscito a dividere con gli uccelli l'impero dello spazio? Chi avrebbe detto che l'uomo sarebbe riuscito i tre amici stavano per terminare il pasto semplice sì ma assai abbondante quando udirono la suoneria dell'apparato elettrico tintinnare e poco dopo videro comparire il capitano con la fronte abbuiata Mi telegrafano dalla stazione scozzese di Capo York che è una bufera terribile e imperversa da due giorni intorno alle isole britanniche. Si annuncia ben cattivo l'inverno quest'anno ma non voglio rifugiarmi nuovamente sulle coste norvegesi e perdere altro tempo. Sfiderò il ciclone. Non vi inquietate signori il mio centauro è costruito con acciaio di prima qualità. Non erano trascorse tre ore che già la bufera annunciata dalla stazione scossese si faceva sentire anche nei paraggi percorsi dal vascello volante. Il cielo si era oscurato e dei soffi impetuosi delle vere raffiche marine giungevano dal mezzodì investendo poderosamente le ali e le eliche del centauro. L'oceano si rompeva in ondate che diventavano rapidamente altissime le quali si disgregavano con mille fragori e banchi di ghiaccio scendenti dall'isola di Jean Maillen. Il comandante aveva dato ordine ai suoi macchinisti di aumentare la velocità sperando di sottrarsi agli assalti imminenti del ciclone e dando la possibilità ai timonieri di dirigersi verso ovest per evitare il centro della bufera. Tuttavia, il centauro subiva dei sussulti improvvisi e si trovava talvolta impotente a resistere alle raffiche. Già più di una volta era stato trascinato per qualche tratto verso il settentrione nonostante gli sforzi delle ali e delle immense eliche. Cadremo in mare! Anche se ciò avvenisse poco danno ne avremmo. I nostri ingegneri avevano pensato anche a simili disgrazie e vi hanno posto rimedio. Non avete osservato che la parte inferiore della piattaforma è quasi sferica come quella delle scialuppe e delle navi e che ha anche una chiglia? Nell'interno vi sono delle casse d'aria le quali impediranno al centauro di sommergersi. Sicché queste navi volanti si possono all'occorrenza trasformare in scialuppe perfettamente navigabili, zio perché la poppa nasconde entro un incavo un'elica di metallo che funziona con la stessa macchina che mette in moto le ali. Come vedete nessun pericolo ci minaccia e anche calando noi potremmo giungere ugualmente in Inghilterra. C'è da impazzire questi uomini moderni hanno pensato a tutto ah ecco un altro pericolo e forse maggiore se il centauro si incontrasse con qualche altro vascello aereo procedente in senso inverso chi riuscirebbe a salvarsi da una collisione fra due macchine spinte con la velocità di 150 km all'ora? Non temete ciò può avvenire in una città dove le macchine volanti sono numerosissime ma in mare no ogni macchina volante è fornita ad un eofono. Scusa che bestia è questo eofono? Un semplice eppure preziosissimo apparecchio formato da due imbuti ricevitori del suono separati fra di loro da un diaframma centrale. questi due imbuti vengono applicati agli orecchi del timoniere e quando questi apparecchi si trovano nella direzione delle onde sonore emesse da un corpo qualunque producono un rumore nella medesima intensità e sono così sensibili da registrare le vibrazioni più impercettibili. Supponete ora che un vascello volante si accosti a noi e il rumore che produce spostando la massa d'aria e anche le vibrazioni delle ali si trasmettono subito agli imbuti del nostro timoniere. Che cosa si fa allora? Si lancia un telegramma che viene raccolto e trasmesso sul vascello dell'apparecchio elettrico. Entrambi i vascelli volanti si fermano e deviano ed ecco tolto ogni pericolo di investimento. E cosa ne dite ora, signor Brandock? Nel momento dobbiamo rinunciare alla speranza di approdare in Inghilterra, signori. Il vento ci trascina come se il mio centauro fosse diventato un veliero e non sarebbe prudente cercare di resistergli. Mi spaventa una corsa in mezzo all'Atlantico? Quando il ciclone si calmerà riprenderemo la corsa verso l'Inghilterra. A Liverpool prenderete o il treno o il vascello che va a Londra. Non è questione che di qualche giorno di ritardo questo ventaccio finirà per cambiare. Il capitano si ingannava. L'uragano imperversò con furia estrema per due giorni ancora mettendo più volte in serio pericolo il centauro le cui ali a poco a poco si sfasciavano. La mattina del terzo giorno quando già il vento cominciava finalmente a scemare di violenza il capitano avvertì i viaggiatori di rifugiarsi nella galleria per non venire trascinati via dalle onde. Scendiamo in mare? Eh signore il centauro non si sostiene in aria che con grandi sforzi piuttosto di cadere improvvisamente io preferisco scendere. L'oceano è sconvolto. Ah l'armatura della galleria è di una solidità tutta prova e i vetri hanno uno spessore di cinque centimetri le onde non riusciranno mai a sfondarla diventiamo marinai dopo essere stati volatili noi già non soffriamo il mal di mare. Entrarono nella galleria assieme all'equipaggio e al comandante potendosi maneggiare i due timoni anche dall'interno ed il centauro calò lentamente in mezzo ai flutti. Brandock Toby e anche Holker per un momento temettero di finire in fondo all'Atlantico. appena il vascello volante si posò sulle acque subì una serie di sussulti e di beccheggi così spaventevoli da temere che si rovesciasse per non raddrizzarsi mai più. Appena però le due eliche d'acciaio uscirono dalle loro nicchie e si misero in moto il centauro riprese la sua stabilità e si mise in marcia come un piroscafo qualunque salendo e scendendo i cavalloni. i cassoni d'aria che riempivano la sua carena lo tenevano meravigliosamente a galla meglio di una botte vuota. Ora ci troviamo a non meno di quattro o cinquecento miglia dalle coste della Spagna il vento dopo averci allontanato dalle coste inglesi ci ha trascinati verso il sud in direzione delle isole canarie il mio povero centauro non può ormai più riprendere il volo guardate come i cavalloni frantumano le ali ma non ve ne date pensiero noi camminiamo con una velocità di 40 miglia all'ora perché le macchine non si sono guastate fra due giorni fra due giorni al più giungeremo a Lisbono o a Cadice in quei porti navi e vascelli volanti diretti in Inghilterra ne troverete quanti volete sicché noi saremo costretti a tagliare la corrente del Gulf Stream per tornare in Europa avremo occasione di vedere quei famosi mulini ma certo cerco anzi di dirigermi verso l'isola numero 7 per vedere se là posso sbarazzarmi del galeotto che si trova chiuso nell'ultima cabina e che voi non avete ancora veduto quell'isola si trova a 25 miglia dalla città sottomarina portochese Descario potrei risparmiare una gita inutile fin là no signor capitano i miei amici non hanno ancora veduto uno di quei rifugi dei peggiori bricconi del mondo siamo pronti a pagare dopo biglietto se ci condurrete ad Escario eh sì allora chissà che non trovi là alcuni meccanici per rimettere a posto il mio centauro ora voi vedrete un'altra delle più meravigliose invenzioni dei nostri scienziati vedrete quale profitto gli uomini del 2000 hanno saputo trarre da questa grande corrente che ai vostri tempi era stata così trascurata pare impossibile come i vostri signori scienziati non siano mai occupati della forza immessa che racchiudono queste acque ma che cosa ne avete fatto voi di questo fiume del mare tu mi hai parlato di mulini è vero zio come voi sapete tutte le nostre macchine funzionano ad elettricità quindi noi avevamo bisogno di una forza enorme per le nostre gigantesche dinamo l'america del nord aveva le sue famose cascate del niagara quella del sud e i suoi fiumi numerosi l'europa pochi corsi d'acqua con misere cascate assolutamente insufficienti cosa hanno dunque pensato i suoi scienziati sono ricorsi all'oceano atlantico e hanno fissato i loro sguardi sul gulf stream ed infatti quali forze immense si potevano trarre da quel fiume del mare hanno fatto costruire delle enormi isole galleggianti in lamiera d'acciaio fornite di ruote colossali simili a quelle dei vostri antichi mulini e le hanno rimorchiate fino al gulf stream ancorandole solidamente oggi di ve ne sono più di 200 scaglionate presso le coste europee quasi altrettante nel golfo del messico incaricate di somministrare senza quasi nessuna spesa la forza necessaria agli stabilimenti dell'america centrale e anche delle coste settentrionali della guiana del venezuela della columbia e del brasile ma come viene trasmessa quella forza mediante fili aerei no no zio con gomene sottomarine simili a quelle che voi usavate anticamente per la telegrafia transatlantica e possono resistere quelle isole agli uragani sono solidamente ancorate e poi anche se gli ormeggi si rompessero gli uomini incaricati della sorveglianza dei mulini non correrebbero alcun pericolo essendo quelle isole o meglio quei vasti galleggianti insommergibili e ognuna di esse quanta forza può fornire un milione di cavalli che cosa non hanno utilizzato questi uomini perfino la corrente del gulfstream a cui non davamo alcuna importanza che quella di diffondere un benefico calore sulle spiagge dell'irlanda e della scozia che uomini che uomini il centauro si era fermato dinnanzi a un'immensa cupola che doveva avere almeno 400 metri di circonferenza formata formata ad armature d'acciaio di uno spessore straordinario e di lastre di vetro di forma rotonda incastrate solidamente e molto grosse un graticolato di ferro copriva tutta la cupola per meglio preservarla dall'urto delle onde e una galleria ricorreva all'intorno piena di reti messe ad asciugare sulla cima dove pareva si aprisse un foro erano comparsi due uomini piuttosto attempati che indossavano delle vesti di panno grossolano e che calzavano alti stivali da mare il capitano del centauro accostò con precauzione la nave ad una delle quattro scale di ferro che conducevano sulla cima della scintillante cupola invitando i viaggiatori a seguirlo qui sono conosciuto non avete da temere signori questo è il governatore della colonia sentite devo lasciarvi qui un espulso dall'europa un suddito inglese che consegnerete più tardi a qualche nave della sua nazione a me è di imbarazzo poiché un ciclone mi ha guastato le ali e le eliche datemelo pure ci penserò io andiamo signori perché fra mezz'ora farò suonare il silenzio e allora si spegneranno tutte le lampade condusse i tre viaggiatori ed il capitano dinanzi a una specie di pozzo che si apriva nel mezzo della cupola dove si trovava pronto un ascensore li fece sedere sulle panchine e l'apparecchio scese rapidamente passando fra un cerchio di lampade a radium che versavano torrenti di luce in tutte le direzioni con visibile stupore di Brandock e di Toby i quali stentavano a credere ai loro occhi si trovarono su una vasta piazza rettangolare di cento metri di lunghezza e su sessanta di larghezza tutta cinta da bellissime tettoie con i tetti di zinco divise in piccoli scompartimenti che formavano le cabine destinate ai galeotti dietro quelle se ne vedevano delle altre fornite di tubi di metallo sulla piazza un numero immenso di barili di pertiche e di reti si trovavano ammucchiate alla rinfusa la mia città è tutta qui e quanti abitanti conta? 1200 sessanta tettoie e venti opifici dove lavorano coloro che non si dedicano la pesca ma dove posa la città? sulla cima di un isolotto sommerso a 15 metri di profondità ma scusi ma non prova scosse la città quando al di fuori infuria la tempesta nessuna signore le pareti che sono formate da lastre d'acciaio collegate con armature solidissime e trattenute da enormi colonne di ferro piantate profondamente nella roccia possono sopportare qualsiasi urto e poi dovreste sapere che a 8 o 10 metri sotto il livello dell'acqua le onde non si fanno sentire è la cupola che sopporta tutto l'impeto dei cavalloni e può sfidarli impunemente in quel momento un cupor in bombo si ripercosse entro la immensa cupola facendo vibrare le vetrate ma è un vero uragano che sape scoppiare signori miei con un'ave così avariata io non oserò riprendere la corsa verso l'Europa abbiamo dei letti comodi e posso offrirvi anche una buona cena a base di pesce si intende i miei compagni non vi daranno alcun fastidio ve l'assicuro ho delle preoccupazioni però per la mia nave i vostri compagni dormono sempre la notte ma perché mi fate questa domanda rispondetemi prima quando infuria la tempesta e la luna manca preferiscono riposarsi perché getterrebbero inutilmente le reti con questa brutta notte non lasceranno i loro letti me lo assicurate rispondo di loro l'ho chiesto perché porto un carico di alcol destinato non so a quali combinazioni chimiche nessuno lo sa quindi potrete dormire tranquilli e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono diventati pazzi! Seguitemi subito! I tre amici si slanciarono fuori dalla casetta senza fare altre domande. Joao li aspettava. Il pover uomo si strappava i capelli e bestemmiava in tutte le lingue. Le lampade erano state riaccese sulla piccola piazza e sotto quegli sprazzi di luce intensa si vedevano agitarsi forse innatamente gli abitanti della città sottomarina. Il capitano aveva avuto ragione a dire che erano divenuti tutti pazzi. Urlavano, saltavano, si picchiavano, si gettavano a terra rotolandosi fra un frastuono orrendo prodotto da sbarre di ferro che picchiavano furiosamente le pareti metalliche che li difendevano dall'invasione delle acque dell'oceano. Ma che cos'è dunque avvenuto? Quello che temevo. Non sentite questo odore? La città è appestata dall'alcol. Il mio, quello che dovevo trasportare ad Hamburgo è che questi miserabili hanno saccheggiato. Ed il centauro? Ignoro se galleggio ancora o se si è affondato. Amici, non ci rimane che prendere in largo prima che tutti questi furfanti diventino pazzi furiosi. Finché avranno dell'alcol, continueranno a bere e potrebbero diventare davvero pericolosi. Quindi salviamoci più in fretta che possiamo. Girarono dietro le case guidati dal vecchio Joao che piangeva di rabbia e si diressero verso l'ascensore mentre i forzati che non cessavano di vuotare barilotti di alcol si abbandonavano ad una danza scatenata. Fortunatamente l'ascensore si trovava piuttosto lontano dalla piazza e non era stato guastato. Salendo automaticamente senza bisogno di nessuno, i cinque uomini balzarono dentro ed in pochi minuti si trovarono sulla cupola. Un uragano spaventevole imperversava sull'oceano atlantico. Ondate alte come montagne si rovesciavano con spaventevoli mugiti contro le balaustre di ferro torcendole come se fossero di stagno. E raffiche tremende passavano sopra la città sottomarina con fischi assordanti. Una nuvolaglia nera, come la pece, correva sbrigliatamente per il cielo, scatenando lampi e tuoni. I cinque uomini si erano avanzati verso la parte meridionale della cupola tenendosi bene stretti alle balaustre per non farsi trascinar via dal vento che aveva acquistato una velocità incalcolabile quando un uomo sorse quasi sotto i loro piedi. Cutterson! Voi, capitano? Ma credevo che vi avessero già ucciso. Dov'è il centauro? Resiste ancora? È scomparso, capitano. Insieme al galeotto che avevamo sbarcato e ad una dozzina di forzati. I marinai sono stati sorpresi nel sonno, fatti prigionieri e mi pare che abbiano fatto, non so se volontariamente o per salvare la vita, causa comune con gli abitanti di questa maledetta città poiché prima di fuggire quassù li ho veduti bere insieme a loro. E la mia nave è scomparsa! L'hanno portata via dopo aver scaricato tutti i barili d'alcol. A quanto ho potuto capire, mentre noi dormivamo, i galeotti hanno tramata una congiura per impadronirsi del carico e fare una spaventevole baldoria. Il nostro prigioniero, più furbo degli altri, si è invece imbarcato con dei suoi amici che ha trovato qui ed ha preso il largo. Saremo costretti ad aspettare il passaggio di qualche nave. Io non vi consiglierei di ridiscendere finché quei pazzi posseggono dell'alcol. Guastando l'ascensore non verranno più ad importunarci. L'elevazione della cupola è troppo considerevole perché possano raggiungerci e le pareti metalliche sono perfettamente lisce. Ah, disgraziato me! Non mi aspettavo una simile rivolta. La colpa è della tempesta che ci ha impedito di ripartire ed è il carico della mia nave. Orsu, non ci occupiamo per ora che di resistere ai colpi dell'uragano. Quando il sole spunterà, vedremo quello che si potrà fare per lasciare questa poco piacevole città sottomarina e i suoi pericolosissimi abitanti. L'uragano assumeva proporzioni spaventevoli. Era una furia d'acqua e di vento che si rovesciava sulla cupola con rabbia inaudita. Cavalloni giganteschi si infrangevano contro le pareti della città imprimendo a tutta la massa delle oscillazioni che inquietavano non poco il capitano del centauro e il pilota che ne sapevano qualche cosa delle collere dell'Atlantico. Di quando in quando la città, per quanto saldamente fissata allo scoglio sottomarino, e trattenuta dai mani colone d'acciaio, subiva dei soprassalti come se fosse lì lì per essere strappata e portata via. Il frastuono prodotto dall'incessante infrangersi dei cavalloni era diventato orrendo. Vi erano certi momenti in cui pareva che l'intera cupola dovesse sfasciarsi sotto quegli urti possenti. I pilastri d'acciaio crollano uno ad uno! Allora verremo portati via! E quei furfanti là a basso continuano a divertirsi. Uno scrosci formidabile si fece udire in quel momento. Un cavallone colossale si era rovesciato sulla città sottomarina scuotendola così violentemente da far stramazzare l'uno sull'altro i tre americani che si erano alzati per vedere se l'orgia dei forzati era terminata o se continuava sempre. Quel rombo spaventevole pareva che fosse stato avvertito anche dagli ubriaconi poiché le loro grida erano improvvisamente cessate. La città si è spostata! Il palo d'acciaio che serviva d'appoggio principale non si vede più! Il cavallone l'ha portato via! Galleggiamo! Tenetevi stretti! L'Atlantico offriva uno spettacolo impressionante. Masse d'acqua coperte di spuma si accavallavano rabbiosamente urtandosi e spingendosi. Nessuna nave né aerea né marittima appariva. Solamente dei grossi albatros volteggiavano fra la spuma e la caligine grugnendo come porci. Nessuna speranza di venire salvati, è vero capitano? Dove ci spinge il vento? Verso sud ovest. Lontano dalle rotte tenute dalle navi? Purtroppo, signore. E dove andremo a finire dunque? Sarebbe impossibile dirlo poiché il vento potrebbe anche cambiare da un momento all'altro. Avremo una seconda burrasca, signori miei, che getterà completamente fuori di rotta le navi, soprattutto le navi volanti che potrebbero trovarsi in questi paraggi. Inoltre, temo che il vento ci spinga verso le Canarie. Vi rincrescerebbe a prodare a quelle isole? Ma da dove venite voi? Dall'America, signore. Disgraziata la nave marina o aerea che cadesse su quelle isole, nessun uomo dell'equipaggio uscirebbe certamente vivo. Che cos'è successo dunque su quelle isole? Ma diamene, non lo sapete. I governi dell'America, dell'Europa, dell'Asia e dell'Africa hanno popolato quelle isole di tutti gli animali che un tempo esistevano su tutti e cinque i continenti. Perché? Per conservare le razze. Lavi sono tigri, leoni, elefanti, pantere, giaguari, coguari, bisonti, serpenti e tante altre bestie delle quali io non conosco nemmeno il nome. Come ben sapete ormai, tutti i continenti sono fittamente popolati, quindi quegli animali non avrebbero più trovato né rifugio né scampo. I zoologi, i zoologi di tutto il mondo, prima della distruzione completa di tutte le belve, hanno pensato di conservare almeno le ultime razze. E gli abitanti di quelle isole non vengono divorati? Un brutto giorno il Tenerifa, dopo chissà quante migliaia d'anni di sonno, cominciò a svegliarsi, vomitando l'ave in quantità prodigiosa e tanta cenere da coprire tutte le isole del gruppo. Ancora si fosse limitato a questo. Vomitò invece anche una tala massa di gas asfissiante da distruggere completamente la popolazione. Quell'eruzione spaventevole durò vent'anni, facendo scomparire parecchie isole e poi cessò bruscamente. I governi europei e americani, dopo aver in vano cercato di ripopolare quelle terre, hanno allora pensato di relegarvi tutti gli animali, feroci o no, che ancora sussistevano sui cinque continenti per impedirne la totale distruzione. L'uragano infuriava con rabbia estrema. Pareva che ormai avesse decretata la perdita di quella disgraziata città galleggiante. Toby, da buon americano le avventure non mi sono mai dispiaciute, però comincio ad averne abbastanza di questa interminabile storia. Sai a che cosa penso io? Pensi che le onde sono troppo violente e che l'Atlantico non è troppo clemente verso gli uomini di cento anni fa? No, che noi finiremo male. E ti lamenti, dopo aver vissuto quasi un secolo e mezzo e aver veduto tante meraviglie. Senza il mio liquore, che cosa saresti tu a quest'ora? Un pizzico di cenere, senza nemmeno un pezzetto d'osso. Hai ragione, Toby. Su centinaia e centinaia di milioni di persone scomparse nel gran baratro della morte, noi soli siamo sopravvissuti e do il coraggio di lamentarmi. Non tentati dunque di vivere un'ora o un mese e non pensare ad altro. E che debba succedere? Nessun altro mortale avrà avuto tanta fortuna. Nessun altro mortale avrà avuto tanta fortuna. Nessun altro mortale avrà avuto tanta fortuna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.